Quando senti la notizia è molto emozionata, mi pare c'è una cosa incredibile. Sì, siamo stati molto contenti perché da quando Gianluca è stato convocato nel Perù che lui non poteva andare, quando l'hanno chiamato che era col Pescara, lui voleva ma non poteva per le fasi finali del Pescara e adesso è riuscito a realizzare anche quello che era il suo sogno. Quando Gareca è andato a Pescara a dirle questo, lui non poteva lasciare il Pescara perché stavano facendo le fasi finali per andare in Serie A e lui seriamente come uomo serio ha detto io mi sono impegnato col Pescara, non vado via. E' come se lui dà l'ok a un'altra squadra e nel momento importante se ne va, capito? Sì, sì, no, no. Allora è stato molto serio, gli ha detto vorrei ma non posso, se no sarebbe andato già all'epoca ma non poteva. Noi siamo molto contenti anche perché va a fare il campo, cioè a parte le qualificazioni per il mondiale, siamo contenti perché va a giocare con le squadre più forti del mondo, cioè ci sono i giocatori più forti del mondo nel Cile, Vidal, anche se qui all'Inter, poi c'è Messi nell'Argentina, quindi è una vetrina molto importante e quindi questo è un motivo di più, oltre all'orgoglio di giocare per il Peru, un motivo in più per partecipare a queste competizioni sperando che il Peru si qualifichi per il mondiale. Gianluca è un giocatore che dà l'anima in campo è un guerrero, è un guerrero, però ci sono altri 10 giocatori. E ora, diciamo, speriamo che vanno a fare 10, sì, tutto il giorno, sempre, sempre, sempre. Allora, tutto il giorno. Allora, tutto il giorno. Allora, sì. E si le vedo in un momento, in una foto, già da piccolo, vizendo la camiseta, la sol di perù, con la 9 di aca. Allora, sì, sì, sì. No? Quando fui al Peru, quando mia hijita ha 8 anni, mis hermanas mi vieron questi conjunti con i due figli, e io ho sempre felice, abbiamo jugato con questo completo. Il primo di tutto, grazie al Peru, no? Grazie al Perù. Grazie al Perù. E se mio figlio ha scelto questa... Si, se il nostro figlio ha fatto questa scelta, noi siamo contenti e felici. È il massimo, è il massimo della felicità. Sì, sì, siamo contentissimi. Grazie a tutti. La prima cosa sono loro. Grazie a tutti, perché abbiamo... in pochi giorni, tutti. Abbiamo corrito per qui e per allà, però... Ora vediamo cosa succede. Certo. In il campo. In il campo. No, grazie. Grazie. De andare al mondo. Vamos al mondo. Vamos al mondo. Vamos al mondo. Fantastico, molto professionale, tanto saluto e tanto augurio. Gianfranco. Gianfranco. La Padula. Il vero Padula. Por supuesto. E la signora. Blanca Vargas. Mamà. De Gianluca. La Padula. Por supuesto. Vive il Perù. Con tanto orgullo. E vive il Perù. E vive il Perù carajo. E vive il Perù carajo. Molto. Molto. Grazie. Grazie a tutti. Grazie.